Maurizio Lupi, ministro per l'infrastruttura e i trasporti, è intervenuto recentemente ad un importante convegno a Roma intitolato ai trasporti e all'economia. E allora andiamo a scoprire quale sarà il futuro di questo settore. Trasporti al passo, economia ferma, questo il titolo del convegno della Confcommercio che si è svolto qui in Piazza Belli, proprio nel Palazzo alle mie spalle. Quasi un motto quello che ha detto il neoministro dei trasporti Lupi, pragmatismo della logistica. Il pragmatismo che occorre per gestire le cose, le cose passate, le cose presenti e le cose future, senza disfare quello che ha fatto il governo prima per poi rifare. Questo è il vero problema dell'Italia che salta fuori da vent'anni di totale immobilismo nelle infrastrutture. Ma sentiamo cosa ha detto il ministro Lupi. Essendo in una situazione eccezionale e avendo fatto un governo eccezionale, che nessuno di noi ovviamente immaginava potesse avere in questa composizione, e bisogna dirlo con molta franchezza, è evidente a tutti che occorre una grande responsabilità. Una grande responsabilità perché, come sempre, gli interventi preparati ai ministri e preparati da tutti noi partono dalla situazione macroeconomica, partono dalla crisi, eccetera, eccetera. Ma chi meglio di voi vive la crisi sulla propria spalla? Chi meglio di voi sa di che cosa stiamo parlando? L'ho sentito ieri dalle vostre parole, da chi le diceva in maniera molto più razionale, anche a chi le ha dette e mi ha colpito in maniera molto più appassionata. Perché fare impresa, piccolo o grande che sia, vuol dire lanciare una sfida. Una sfida a se stesso, una sfida alla propria intuizione e una sfida al proprio paese. Perché è solo se l'impresa si sviluppa in qualunque settore essa sia, che un paese può guardare al futuro e può dare quello che l'impresa è, anche il suo valore sociale. Cioè creare lavoro e creare ricchezza. Allora, di oggi è il dato che più mi ha preoccupato, per dire quanto è eccezionale la sfida che abbiamo davanti. I dati di Banca d'Italia dicono che anche il primo trimestre, purtroppo, del 2013 ha un segno meno, meno 0,5. Abbiamo visto anche in maniera preoccupante che il segno più della Germania è però un segno più 0,1 e le previsioni sul 2013 sono un meno 2,5 per l'Italia. E' evidente che questo testimonia il compito che abbiamo davanti, in tutti i settori. Qual è il principale compito che ci siamo dati come Governo e che quindi si è dato a cascata anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Creare come priorità assoluta le condizioni per la crescita. Noi non possiamo non avere questo impegno che è morale e che è politico. E dobbiamo porci la domanda come le condizioni per la crescita si declinano all'interno delle responsabilità di ogni singolo Ministero. Secondo me per fare questo occorre innanzitutto seguire un metodo e condividere un metodo. Un metodo che riguarda il Governo, un metodo che riguarda la politica, un metodo che riguarda la pubblica amministrazione e un metodo che riguarda anche le imprese e i cittadini. Che è quello ovviamente della responsabilità e che non si vince la sfida di creare le condizioni per la crescita se non c'è un coinvolgimento. Bisogna smetterla con i ministeri o i settori che ognuno va per la sua parte. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non dialoga col Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Economia, del Tesoro e delle Finanze pensa di essere un ministero a parte. Il Ministero dello Sviluppo Economico. Cioè siamo, lo abbiamo ribadito a spinetto trovandoci insieme, se la politica può dividerci, la politica può dividerci perché siamo divisi nelle identità e nelle proposte che facciamo, sono le politiche che possono unirci e riportare forse anche ad una concezione della politica che ribadendo con orgoglio le identità che sono diverse inizia a considerare invece la comune responsabilità della politica con la P maiuscola che è quella di servire il proprio Paese. Il secondo metodo è che la politica deve smettere di calare le cose dall'alto. dobbiamo ribaltare il metodo e cioè quello dell'ascolto e del riconoscimento che la risorsa di un Paese è la ricchezza che esiste nella società e che la politica deve fare la politica, cioè si assume le responsabilità, non può delegare a nessuno l'assunzione di responsabilità. Abbiamo un obiettivo? La crescita. C'è un metodo? I protagonisti della crescita sono le realtà, committenti, imprenditori, artigiani eccetera. La politica deve assumersi la responsabilità di dire come insieme si raggiunge l'obiettivo, facendo magari fare un passo indietro a ognuno per fare un passo avanti tutto insieme. E questo è il primo messaggio che voglio lanciarvi pubblicamente perché ieri l'ho lanciato incontrandovi. Come noi abbiamo avuto il coraggio e dovremmo averlo, come noi abbiamo avuto il coraggio di assumerci la nostra responsabilità e dovremmo averlo come metodo in questo governo eccezionale, anche la società civile cosiddetta ci aiuti, non è una recriminazione ma è un invito, a far sì che questo accada. Facciamo un esempio. Oggi Carluccio Sangalli giustamente dice attenzione, l'Imu è importante, l'Imu per la prima casa, ma è importante che si consideri nei limiti ovviamente delle, siamo tutti molto persone responsabili e serie, non è che nuotiamo nell'oro e quindi sappiamo che i vincoli di bilancio esistono ma senza ridare un po' di risorse, senza ridare fiducia, quella crescita non l'avremo mai, perché se quel segno meno non ritorna ad essere più noi continueremo a scendere e la recessione che dura da cinque anni durerà di più, oppure al contrario se partirà e se dovesse ripartire come tutti ci auguriamo lo sviluppo, la crescita rischiamo come sempre il nostro paese di non essere il primo vagone ma di essere l'ultimo, perché è, dobbiamo capire perché. Non si può più guidare solo sacrifici, i sacrifici si fanno, me lo insegnava il mio papà, se sia sempre chiaro il motivo per cui lo si fa, se sia chiaro lo scopo per cui lo si fa. Perché è importante il vostro settore? Ce l'abbiamo chiaro, abbiamo detto in questo momento di crisi è evidente quello che accade, allora è evidente che noi perdiamo competitività, è evidente che il costo dell'energia è maggiore, il costo della burocrazia è maggiore, però è altrettanto evidente un dato che conosciamo tutti, pensate il costo della logistica, di un'inefficienza della logistica è intorno ai 50-60 miliardi, ma quello che è più importante è che ci fa perdere competitività, che apre ancora di più il mercato, come deve essere aperto il nostro mercato, alla concorrenza. Allora, avere l'obiettivo strategico e comprendere che una delle condizioni della crescita imperativo è che nel breve periodo, nel medio periodo non abbiamo più tempo, non abbiamo bisogno di lungo periodo, insieme, rapidamente, prendendo ciò che di buono è stato fatto e già stato prodotto. Dobbiamo capire una cosa, se la condividiamo, non esiste pensare ancora a compartimenti stani, il sistema portuale, il sistema interportuale, il complesso sistema della logistica, il sistema dei trasporti ferroviari, noi se continuiamo a ragionare così siamo morti. Allora, riprendiamo anche valorizzando le iniziative parlamentari e nel dialogo con la Commissione e con il Parlamento. Diamo una corsia accelerata e proviamo a vedere, di riprendere, senza inventarci nulla, ciò che di buono c'era nella prima proposta e ciò che di buono c'era nella seconda proposta. Noi dobbiamo partire dalla legge, non è che possiamo partire da un'altra cosa. Permettetemi qui di fare una... Apro e chiudo una parentesi perché poi questo è il mio cavallo di battaglia forse per l'esperienza della mia parte politica e per come sono stato educato. Dobbiamo smetterla di fare, e questo è l'invito che vi faccio, di far risolvere i nostri problemi agli altri, dicendo che poi la colpa è degli altri, in particolare alla magistratura, all'antitrust, all'Europa, eccetera. Dobbiamo assumerci il coraggio se possibile di risolverli tra di noi, prima di delegarli ad altri. Allora, questo tema io l'ho detto, mi piacerebbe immediatamente affrontarli, affrontare insieme il tema anche dei costi minimi e cercare di evitare di aspettare che qualcun altro si pronunci, tenendo conto ovviamente dei principi e delle questioni che mi sono state poste. Ed è tutto dal convegno Confcommercio qui a Roma, trasporti al passo, economia ferma. Ora bisogna fare veramente sistema, anche perché il tempo è veramente finito. E con quest'ultimo servizio su questo convegno romano si chiude anche questa nostra puntata. Appuntamento a settimana prossima con trasporto commerciale, sempre qui su Dinamica Channel. Grazie a tutti.